Il titolo del nostro corso di esercizi spirituali è la santità dei peccatori. Dovremo capire in che cosa consiste la santità dei peccatori. La prima meditazione ha questo titolo, la miseria ontologica. Spieghiamo subito questa parola così difficile, cosa vuol dire ontologica. Ontologica significa per quanto riguarda l'essenza, la miseria in sé, sul piano della costituzione, dell'essenza. Quando si parla dell'essere, che cos'è la miseria dal punto di vista della sua essenza? Cioè che cos'è veramente? Questo è il titolo della nostra prima riflessione. Innanzitutto, se l'argomento centrale è la santità dei peccatori, la prima parola ci dice che noi siamo chiamati a essere santi. Siate santi perché io, il Signore, sono santo, Deuteronomio. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro Celestia, Vangelo di Matteo. Se siamo battezzati, siamo chiamati alla santità. Dovete saperlo, non dite mi accontento di quello che posso fare. Nel Vangelo non c'è scritto accontentatevi di quello che riuscite a fare. Non c'è scritto. Le pretese di Dio sono straordinarie. Ma in che modo dunque diventiamo santi? Perché questo è quello che dobbiamo fare. Non è un cammino nell'ordine naturale. Non è un corso di studi. Non c'è un diploma, meno male, meno male. Non è un corso di laurea con una tesi finale. La santità è una realtà da accogliere. Perché Dio solo è santo. Cosa diciamo nel Gloria tutte le domeniche? Coniam tu solus sanctus. Perché tu solo il santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Cioè, santo, che vuol dire totalmente separato, totalmente sacro, è Dio solo. Ma questa santità Dio ce la vuole donare. Allora, d'accordo? Santo è Dio solo. Infatti i santi canonizzati, noi li chiamiamo santi, ma perché hanno partecipato più di altri alla santità di Cristo. Non hanno fatto un corso per diventare santi. Molti di loro erano anche ignoranti. Poi tutti i santi che sono in Paradiso non sono mica solo quelli canonizzati. Bene. Allora, la santità è da accogliere, va bene? E dove dobbiamo accoglierla? Ecco il succo. Nella nostra miseria. La miseria nostra è un contenitore, è una coppa vuota, è un calice vuoto, va bene? Nella quale noi possiamo accogliere qualcosa. Un calice vuoto si può riempire. È un ricettacolo. Quindi la miseria nostra ha un significato positivo. Appena ho detto miseria, molti di voi hanno detto alla miseria, porca miseria. No, la miseria di per sé, perché noi pensiamo all'indigenza, no? Uno che non ha niente è un povero uomo, un miserabile. Oppure, se diciamo di uno, quello è un miserabile, non è un complimento. Invece è un complimento, cioè è il ricettacolo vuoto che noi offriamo a Dio perché egli lo riempia. E la condizione dell'uomo prima del peccato era precisamente questa. Adamo ed Eva. Erano creature uscite dal seno di Dio, perfette, come contenitori vuoti della grazia divina. Il peccato originale ha distrutto tutto, ha lasciato il contenitore, ma vuoto. Cioè questa grazia se n'è andata. Poi, chiaro, dove è abbondato il peccato? Se avrà abbondato la grazia, la Madonna è piena di grazia, appunto ha questo ricettacolo vuoto, pieno di grazia. E anche noi siamo chiamati a riempire questo calice che noi offriamo al Signore della sua grazia. Questo calice nostro si chiama miseria, va bene? Vogliamo capirlo? Ha un nome e un cognome, si chiama miseria. Se lo riempio io, inizia il disastro. Se lo riempio io, questo calice, con le mie qualità e capacità, divento io il centro operativo. Intendiamoci, dobbiamo usare la nostra intelligenza e le nostre facoltà. Il Signore non è che fa un'opera annullando le nostre facoltà. No, no, assolutamente. Ma se io ignoro la grazia che viene da Dio, non coopero con la grazia divina, necessariamente senza la grazia divento che cosa? Un disgraziato. Disgraziato, senza grazia. Quindi divento principio di me, decido io cose bene e cose male. Non succede oggi questo? Non solo nei grandi sistemi, nello Stato, nelle leggi, ma anche nel mio piccolo. Faccio quello che mi pare, faccio quello che ritengo giusto. È classico della ribellione giovanile, no? Alcuni di voi hanno dei figli sedicenni, diciottenni. Mi dispiace per voi, ma è il momento in cui il figlio dice Ma perché devo fare come dici tu? La ribellione, no? E voi dite, perché è una cosa buona? E i figli vi rispondono, ma chi l'ha detto che è buono? Per te è buono, per me no. È così. E cosa rispondete? Cosa dite? Il buono oggettivo, quale? Provate a convincervi. E' l'uomo nel peccato originale, che decide da sé cosa è buono. E' buono mangiare la mela? E' buono trasgredire il comando di Dio? Lo faccio. Ma se decido io, questo è il punto, qual è il bene e qual è il male, se riempio questa coppa di me stesso, va a finire che divento schiavo di forze superiori. È inutile dire di no. E' il principio delle mode, no? Quando si vuole lanciare una moda, si mette a tutti i livelli, oggi con internet su tutti i piani, spari 10.000 messaggi al secondo e alla fine tutti si convincono che è una cosa buona. E bisogna farlo, bisogna conformarsi. Ma chi l'ha deciso? Bene, allora, diceva Sant'Angela da Foligno, se noi siamo questo vuoto riempito di noi stessi, siamo come un vuoto superbo. E' la condizione peggiore. Siamo miserabili, siamo miseria, siamo miserabili, pieni di superbia. E' la condizione peggiore. E' la condizione degli uomini di Babele. Avete presente l'episodio di Babele? Costruiamoci una torre, facciamoci un nome. Bello questo. Facciamoci un nome. Voglio un io indipendentemente da Dio. Mi faccio un nome. Bene, allora, questa è la parte negativa, o meglio, ho cercato di spiegare un po' chi siamo. Vediamo adesso che cosa dobbiamo fare per accogliere questa grazia divina. E comincio con le mie belle citazioni. Tutte scritte qua e poi alla fine vi darò il foglio, per cui potete scrivere, ma sono tutte segnalate. Il Beato Maria Eugenio di Gesù Bambino, un carmelitano, scrive, Per essere santi bisogna raggiungere un limite, un annientamento tale che non rimanga da fare che una cosa soltanto, sperare in Dio. Divenuti completamente poveri, ci può salvare solo un atto di fiducia in questa totale povertà. Un atto di speranza che sgorghi dalla miseria più assoluta. Dice questo padre che per diventare santi il nostro compito è di scendere. Dobbiamo salire per chiedere al Signore di mandarci la grazia, perché è come, avete presente il sottovuoto, quando mettono il salame o il formaggio sottovuoto, mettono il formaggio nella plastica, poi non so con quale principio tirano via l'aria e il sacchetto si chiude sottovuoto. Cioè noi dobbiamo tirar via l'aria, scendere, tirare via noi stessi. Qui addirittura questo padre dice un annientamento tale che alla fine ti rimane solo da sperare in Dio. Quindi lì, in questa miseria più assoluta, ci rimane la virtù della speranza. È l'unica cosa che ci rimane, sperare in Dio, perché fino a quel momento speriamo in tante altre cose. Avete presente il libro famoso Io speriamo che me la cavo? C'è sempre questo, no? Speriamo in tante cose e allora man mano che queste cose falliscono, ecco che troviamo questa virtù teologale meno famosa, ma tiene le altre due, la fede e la carità. è la speranza che le sorregge. Quindi dobbiamo, in un certo senso, scendere e non salire. Santa Teresa di Gesù Bambino, che verrà citata abbondantemente nei nostri giorni, vive al termine di un secolo in cui in Francia, ma anche nel secolo precedente, era in voga una linea spirituale che si chiama jansenismo. Lo conoscete il jansenismo? Cioè, così a grandissime linee, meditava sulla conquista del paradiso, quindi la salvezza della vita eterna con i propri atti, ma, cioè con le proprie virtù, ma si spingeva moltissimo sulle virtù, cioè guadagno un premio finale e c'è questo, intendiamoci, ma con gli atti delle virtù. Santa Teresa di Gesù Bambino non parla mai di cielo come conquista, ma si rifà al Vangelo che parla del Regno dei Cieli come un'eredità. Avete presente quante volte il Signore parla di eredità? Il figlio prodigo, eccetera, ma anche San Paolo dice abbiamo ricevuto in eredità al Regno dei Cieli coeredi con Cristo, questa parola di essere eredi, ma l'eredità si conquista o si riceve? Quando voi figli avete ricevuto in eredità dai vostri genitori quello che avete ricevuto, l'avete conquistato con i vostri meriti o perché siete stati figli? semplicemente perché siete stati figli anche magari disgraziati, se non siete stati diseredati che è il sommo della come dire della rottura col padre ne hai fatte talmente tante che ti diseredo, va bene? Ma se non è così l'eredità la riceviamo, il bene del padre, della madre vanno ai figli, arrivano a me in eredità, me li sono meritati? No, io la accolgo. Allora questa è precisamente la nostra condizione, in quanto figli miserabili accogliamo l'eredità che è la grazia di Dio. Ecco allora la fiducia totalmente rivolta a Dio, ha ragione questo autore del dire alla fine ci rimane solo la speranza e tutta la vita nostra è una battaglia continua, invece ad avere speranza anche in altre cose. Ecco allora che la vita ce le toglie tutte ed è un bene questo. Santa Teresa di Gesù bambino poi compie un altro passo, dice va bene questa miseria, questa coppa vuota non è da accettare ma da amare. C'è una bella differenza. scrivendo alla sorella Celina scrive perché spaventarsi di non poter portare questa debolezza? Gesù verso il Calvario è caduto tre volte e tu povera sorella mia non sarai simile al tuo sposo tu non vorrai cadere cento volte se egli per provargli il tuo amore se si deve per provargli il tuo amore e rialzandoti con più forza che prima della caduta. Cioè dice non lamentarti se cadi cento volte. Gesù è caduto per tre volte e ogni volta che ti rialci manifesti un atto di fiducia in lui cioè Teresa augura alla sorella di cadere cento volte così ti rialzi ogni volta così poni la tua fiducia in lui cioè questa miseria è puntata non sulla caduta ma sul rialzarsi noi parliamo sempre della caduta avete presente quando uno cade sempre negli stessi peccati è vero o no che vi scoraggiate anch'io ma come dopo trent'anni di vita religiosa dopo quarant'anni di vita religiosa sono sempre negli stessi peccati oppure mi confesso sempre delle stesse cose avete presente no ma non conta quello che appunto in questo caso ha caduto certo non dobbiamo cadere ma conta il fatto che mi posso rialciare che mi devo rialciare perché è questa mia miseria che attira lo sguardo di Dio Dio è attirato dall'umiltà Dio si serve di questa debolezza scrive Teresa di Gesù bambino io adesso non mi stupisco più di niente non mi faccio pena vedendo che sono la debolezza stessa bellissimo sto fatto non mi faccio pena voi vi fate pena qualche volta io sì mi guardo allo specchio e dico ma che pena ma non che pena la persona che vedo come dicevo prima il fatto che dopo tanti anni mi sembra di essere lo stesso punto e mi dico ma Gesù non può essere contento di me vedete qui non esco qui non divento santo se continuo guardarmi e dire Gesù non può essere contento di me sono stato bocciato all'esame non sono il figlio che riceve l'eredità allora il signore dice è bene che tu sia bocciato ma è bene anche che tu esca da questo esame che fai su te stesso sulla bocciatura è bellissimo questo fatto non mi faccio pena guardate che Teresa di Gesù bambino interessante perché con questo amare la propria miseria ha compiuto una vera rivoluzione nella vita spirituale che più o meno era pennellata adesso non voglio esagerare molto da questo senso di 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 a gesuita un autore studioso delle opere di Santa Teresa che partecipò a un congresso alle sede nel 1932 Teresa era morta da 30 anni in quell'anno lì lui propose Teresa dottore della chiesa che fino a quel momento non era mai stato assegnato a nessuna donna Si doveva aspettare il 1997 quando Giovanni Paolo II proclamò Teresa di Gesù Bambino dottore della Chiesa. Questo gesuita aveva capito che si era aperto una nuova tappa nella storia della spiritualità. Incredibile questo fatto. Perché dottore della Chiesa? Dottore della Chiesa vuol dire che la tua dottrina non è semplicemente una delle tante spiritualità ma diventa materia di studio, deve essere insegnata nelle facoltà. Il dottore insegna e se insegna influenza non la spiritualità ma la teologia. Non la volevano Teresa di Gesù Bambino dottore della Chiesa in nessun modo perché dicevano non ha scritto nessun trattato, è morta a 24 anni, ha scritto un'autobiografia che sono poche pagine, che cosa ha da insegnare. Che cosa ha da insegnare. Cerchiamo adesso di capire qual è il suo insegnamento, lo stiamo facendo, no? entrare in questa miseria ontologica da amare perché lì noi conosciamo veramente che cosa significa avere fiducia. Cosa significa veramente avere fiducia in Dio. Scrive Santa Teresa a una consorella Si potrebbe credere che è perché io non ho peccato che ho una fiducia così grande nel buon Dio. Teresa dice Io non ho coscienza di aver fatto nessun peccato. Potete dirlo voi? Silenzio. Bene, Teresa conosce la propria miseria ma dice Non mi ricordo di aver fatto dei peccati. Quindi voi pensate che io ho fiducia in Dio proprio perché non ricordo di aver fatto dei peccati. Se io avessi commesso tutti i crimini possibili, scrive, avrei la stessa fiducia perché sento che questa moltitudine di offese sarebbe come una goccia d'acqua bellissima gettato in un bracere ardente. Teresa dice La misericordia di Dio è talmente grande che tutti i peccati del mondo messi insieme da Adamo e Eva fino all'ultimo i crimini del mondo, tutti, sarebbero come una goccia d'acqua che finisce in un bracere. Quanto dura la goccia d'acqua dentro un bracere? Non ci arriva neanche. Ma chi ha questa fede? Chi di voi ha questa fede? Fede uguale fiducia. Chi di voi, se ha la coscienza di aver commesso tutti i crimini del mondo, non esita un secondo a gettarsi nelle braccia del Signore guardando la propria rialzata. Chi di voi crede nell'amore di Dio con questa passione, con questa totalità? Anche il padre Barsotti citava questo passo dicendo il primato della fede sulla carità. È più importante la fede o la carità? Diceva. Domanda provocatoria, no? Tutti a dire carità perché alla fine rimane solo la carità dice San Paolo tre cose fede, speranza, carità ma alla fine rimane solo la carità sì ma per arrivare alla fine la fede apre le porte alla carità perché Dio è amore. Santa Teresa si pone anche la domanda come può avere questa fiducia in Dio sapendo che Dio vede tutti i tuoi peccati passati. e poi si dice ma anche quando andrò in paradiso la mia anima sarà aperta a tutti come? Gli altri vedranno tutti i miei peccati passati non ci vado mica in paradiso io non voglio mica che gli altri vedano tutto quello che ho combinato dieci, venti, trent'anni fa che vergogna è vero che ogni tanto pensiamo questo? Mi nascondo ci fa come Adamo, no? in paradiso ci vado volentieri ma quando un altro comincia a guardarmi un po' troppo sarà bene che io mi nasconda dietro l'albero c'è mica un fico in paradiso c'è mica un albero in paradiso ecco mi prendo quello e se mi guardano troppo vado lì come potrò amare Dio con cuore puro? si domanda sapendo che lui vede tutti i miei peccati passati come faccio ad amarlo? non proverete un po' di vergogna? non si proverà la vergogna? scrive Santa Teresa di Gesù Bambino se voi dite questo dimenticate che io parteciperò anche alla misericordia di Dio i beati hanno una grande compassione delle nostre miserie essi si ricordano che essendo fragili e mortali come noi hanno commesso le stesse colpe oh meno male così quando mi vedranno dirò ma pensa alle tue non pensare alle mie avranno sostenuto gli stessi combattimenti e la loro tenerezza fraterna diventa più grande ancora di quando erano sulla terra allora scopro che le mie debolezze attireranno anche la loro misericordia non solo Dio attirato dalla mia miseria ma anche quella dei santi cioè alla fine se io sono un pecatore ma arrivo in paradiso quindi ho tutto purificato attirerò l'amore di tutti gli altri ma non è bello questo perché non mi presento col diploma ho avuto 110 elode lì mi potrebbero dire bravo io ho avuto 111 ecco allora cominciano le diatribe il nulla superbo io sono migliore io ho fatto più esami ho preso 110 elode col bacio accademico avete avuto voi bacio accademico bacio in fronte accademico c'era una volta adesso penso non si faccia più però di fatto è stupendo sto fatto io grande peccatore se arrivo in paradiso attirerò lo sguardo cioè l'amore misericordioso di tutti coloro che nel frattempo sono lì perché anche loro sono stati guardati con amore purificati dai loro peccati e la nostra debolezza è quella che attira Dio e le anime questa grandezza di Santa Teresa di Gesù Bambino ella la voleva vivere anche qui in terra pensate che cosa scrive a Suor Maria anzi cosa dice a una delle sue novici era vice maestra delle novici Suor Maria della Trinità dice se non fossi stata accettata al Carmelo sarei entrata in un rifugio e la nota spiega cos'è questo rifugio si chiamava rifugio la casa delle ex prostitute che volevano smettere con la loro vita ma venivano recuperate alla fede da suore da istituti religiosi e avviate a una vita professionale onesta a un lavoro e a un certo rinserimento nel mondo allora dice Teresa se non mi avessero accettato al Carmelo sarei andata lì ma non come suora come una di queste donne per vivere disprezzata e sconosciuta in mezzo alle prostitute penitenti la mia gioia sarebbe stata essere considerata come tale sarei diventata apostola delle mie compagne dicendo loro che ne penso della misericordia del buon Dio cioè Santa Teresa dice per avere questo senso di miserabilità di vaso vuoto non mi sarebbe dispiaciuto essere considerata da tutti una prostituta in modo che io non ho la lode di nessuno non ho l'approvazione di nessuno non ho la stima di nessuno perché mi considerano tale ma ho la misericordia di Dio perché il mio vaso vuoto viene la mia miseria viene accettata e l'esterno mi aiuta capite? allora qui ha ragione Sant'Ignazio di Antiochia che dice chi mi loda mi frusta Sant'Ignazio di Antiochia diceva non fatemi tante lodi non fatemi degli applausi perché ogni vostro applauso è una frustata alla mia vanità al mio amore proprio io ho la mia coppa ma quando mi appalaudite troppo sì devo dire a me sì do tutta gloria a Dio io non ho nessun merito eccetera ma un pochettino si infila di amore proprio e alla sera mi dico non male sono stato bravo o come il bescovo Bossuet che si faceva frustare in sacrestia perché faceva delle prediche così belle e muoveva così tanti cuori che lui finiva le sue riflessioni con un po' di amor proprio e aveva incaricato uno di dargli ma è vero è un fatto buono di dargli delle bastonate in sacrestia cioè questo lì arrivava in sacrestia era pronto con il bastonato questo poveretto a dare delle bastonate al bescovo lui dava la spalla e dice dai cacciaggiù delle bastonate boom 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 quindi sentivano questi rumori se fosse entrato qualcuno che fa questo va bene pensate però la come dire anche la finezza di Teresa di Gesù Bambino che dice pur di salvaguardare questa miserabilità avrei preferito questo il santo dunque alla fine veniamo adesso al grande maestro Don Divo Barsotti il santo chi è? è il peccatore perdonato peccato più grande di ogni peccato dice il padre Barsotti è diffidare di Dio è credere che il tuo peccato possa essere un ostacolo alla sua azione credere che il tuo peccato sia più grande dell'azione di Dio e allora anche qui Divo Barsotti dice il tuo peccato ti fa crollare e agganciare alla speranza di Dio scrive il padre Barsotti si può sperare senza anche avere il senso della miseria ma allora non si spera in Dio si spera nelle nostre virtù e quanti siamo anche noi che viviamo una vita spirituale quanti siamo che non speriamo nella misericordia di Dio anche noi qui si rivolge alla comunità noi speriamo perché facciamo bene le nostre preghiere perché crediamo di essere pacienti speriamo perché cerchiamo di essere anche buoni ma guardiamoci veramente quanto più ci conosceremo tanto più ci conosceremo di essere peccatori ma Gesù è venuto per i peccatori il Vangelo di Matteo non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori Matteo 19 12 Gesù cerca i peccatori anche quelli più impestati un autore francese scrive la santità non consiste nel raggiungere l'equilibrio psichico o la perfezione morale ma nel vivere l'accoglienza dell'amore di Dio in una vita concreta così tutti sono chiamati alla santità malgrado le ferite le debolezze e l'angoscia un altro autore francese interessante dice i diversi tipi di santità ci sono dei santi canonizzati con degli psichismi disgraziati e difficili la truppa degli angosciati degli aggressivi e dei carnali tutti coloro che portano dei pesi insopportabili dei determinismi sono coloro che cadono e cadono ancora coloro che piangeranno fino alla fine e a fianco di loro ci sono i santi dallo psichismo facile i santi casti forti e dolci i santi modelli canonizzati e canonizzabili gli uni e gli altri sono fratelli è per noi quaggiù che sono differenti davanti a Dio sono uguali e noi li vedremo nel giorno del Signore guardate questo è importante perché nel panorama dei santi ci sono dei fiori profumati dei gigli che sembra nascono così dal seno materno Santa Gima Galgani Santa Teresa Gesù Bambino crescono intatti diciamo ce ne sono degli altri che hanno delle lotte spirituali spaventose che cadono in certi peccati ma pensate anche Sant'Agostino Sant'Agostino stesso fece fatica a liberarsi conviveva diciamo prima di diventare cristiano ma una volta batteggiato fece una fatica terribile a liberarsi della donna che avevano liberarsi nel senso la amava non è che non la volesse staccarsi da lei e portò sempre dietro questo tormento ci sono dei santi che urlano e combattono fino alla fine leggete la vita il venerabile Beato Domenico della Madre di Dio un passionista quello che convertì il Newman aveva delle tentazioni carnali ed era un sacerdote fino alla morte ma terrificanti delle battaglie terribili quindi se vi riconoscete in questa prima parte come dite ma allora non sarò mai santo perché Santa Gemma e Santa Teresina San Domenico Savio sono questi gigli profumati io non profumo più perché ho perso qualche treno a distanza va bene allora mettetevi nei primi questi santi con psichismi difficili a truppa degli angosciati truppa degli aggressivi carnali va bene mettetevi nei santi carnali come scrisse una volta padre Silvano bellissimo sull'eco del sasso non so se lo sapete questo un fatto vero tu facevi la redazione degli articoli sull'eco del sasso e quando andò il cardinale Silvano Piovanelli disse abbiamo avuto la visita del carnale Piovanelli anziché cardinale si dimenticò la D le lettere D I per cui fu stampato che l'arcivescovo di Firenze il carnale Piovanelli era andato in visita al sasso roba da sprofondarsi poi dopo penso che Silvano dovette spiegare che era un errore di stampa scusi Eminenza ma non volevamo metterla nella lista qui dei santi psichici aggressivi e carnali abbia pazienza caro cardinale va bene comunque se volete stare nei carnali psichici e aggressivi stateci pure tanto lo siete quindi non siete né Santa Gemma né Santa Teresina cavatelo dalla testa però bello perché noi li vediamo così diversi ma questo autore dice davanti a Dio sono uguali ognuno ha il proprio percorso sono diverse tipi di santità ma la santità è sempre quella c'è anche la santità dei derelitti ma scusate Don Divo Barsotti non scrisse nei suoi diari giovanili l'abbiamo detto mille volte non c'è il santo patrono dei fallimenti e allora io vorrò diventare il santo patrono dei fallimenti perché voleva andare in missione non gli andava bene voleva andare eremita e non lo accettavano voleva fare una roba non lo volevano il vescovo non ne poteva più del padre Barsotti perché non era mai in pace era un santo anche lui psichico carnale non lo so ma aggressivo angosciato non sapeva dove metterlo faceva parte di questa schiera e si dichiarò il santo patrono dei fallimenti però santo vedete non voglio essere il rappresentante dei falliti no il santo patrono io credo che fosse già un po' in questa dimensione ma lo dice anche Gesù molti degli ultimi saranno primi e molti dei primi saranno ultimi chi sono questi ultimi gli ultimi non sono i poveri di soldi o gli ultimi della scala sociale noi pensiamo sempre a quelli no 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 gli ultimi sono quelli miserabili quindi possono pretessere anche voi non i poveri della stazione gli ultimi saranno primi cioè quelli che di sé hanno l'idea di essere dei miserabili lui dice San Paolo nella lettera ai Corinzi ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla allora io sono contento di far parte e voglio essere nella sezione degli ignobili e disprezzati sono scelti da Dio a voi non piacciono voi volete essere nobili e acclamati va bene invece 1 Corinzi 1.28 Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile ciò che nel mondo è disprezzato il santo non è mai senza macchia senza difetti va bene perché tolta Maria Santissima fuori quota fuori categoria i santi non sono mai senza difetti certe ageografie sono sbagliate ageografie vuol dire vite di santi io ho letto ho iniziato per tre volte a leggere la vita non è ne beata non so neanche se è beata di Teresa Musco la conoscete una stigmatizzata non ci riesco ho interrotto tutte e tre le volte perché è santa fin dal seno materno almeno chi scrive la vita non fa altro che esaltare i suoi atti mistici eccetera ma io voglio sapere cosa pensavo voglio sapere anche i suoi difetti come li ha vinti è lì la santità che si vede perché i doni mistici vabbè li ha sono contento per lei ma non riesco a leggere queste vite perché non mi aiutano diventano un peso ma sono in buona compagnia anche Santa Teresa di Gesù bambino la pensava così scrive i sacerdoti ci mostrino le virtù praticabili è bene parlare delle prerogative della Madonna ma bisogna soprattutto poterle imitare lei preferisce l'imitazione per quanto sia bella una predica sulla Santa Vergine se tutto il tempo si è costretti a fare ha ha scrive così se ne ha abbastanza cioè Teresina dice non le posso più di questi preti era tosta che vengono qui fanno delle lodi sperticate e dice io tutta l'omelia dico ha ha cioè è bello ma non riesco a mettermi in sintonia questo è della Madonna ma anche dei Santi se si descrive il Santo in questa maniera cioè il super laureato che le ha passate tutte senza tutti i doni di Dio senza come dire psichismi difficili la figura del Santo si allontana e io dico non sarò mai santo e vedete faccio il processo contrario mi accontento mi accontento di quello che posso fare è già molto se non strocio mia suocera mia moglie eccetera sono già messo bene se faccio così la figura del Santo si allontana e noi non vediamo l'ora di avere delle scuse per il disimpegno eh certo diciamo se questi sono i santi infatti ogni volta che io dico dobbiamo essere santi eh no nessuno dice sì lo vogliamo tutti dicono perché abbiamo in mente quella figura cioè quella quell'impraticabilità mentre invece i Santi erano anche dei peccatori ma perché non dirlo ma non è che vogliamo gettare addosso loro del fango per carità lo vediamo adesso nello studio della canonizzazione di Don Divo Bersotti io sono vice postulatore non è che faccia un granché per il momento ma è interessante che non si va a vedere la virtù cioè non si pretende che non abbia mai sbagliato ogni volta che guardano una virtù vanno a vedere com'è andato a finire cioè se a 40 anni anche ha mandato a quel paese violentemente Sergio per dire o qualcuno che era lì questo non costituisce ah non è santo no 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 si va a vedere se nel tempo ha vinto questa sua battaglia personale contro l'ira per esempio contro la passionalità se l'ha vinta è santo quindi va benissimo che uno ecco perché fanno giurare di la verità cioè se io ho visto Dio Bersotti fare una cosa che non andava devo dirlo perché non se no devo presentare il quadro del perfetto che non è così è santo perché l'abbiamo visto anch'io con i miei occhi anche padre Silvano chiedere scusa mettersi in ginocchio a dire io ti ho offeso mettersi in ginocchio davanti al fratello questo è il santo che ci ragiona sopra che dice non sono riuscito a vincere la mia passionalità e ti ho offeso ti chiedo umilmente perdono allora ci siamo ci siamo scrive Leon Blois conoscete uno scrittore francese un mezzo matto non esistono grandi uomini e scrive io ho l'anima di un santo bellissimo anche il mio padrone però che è uno spaventoso borghese anche il fornaio il macellaio e il droghiere che sono forse delle detestabili canaglie tutti hanno anime di santi perché essi pure sono chiamati come voi e come me e come San Francesco e come San Paolo alla vita eterna e sono stati tutti pagati con lo stesso prezzo questo l'ho citato non c'è un uomo che virtualmente non sia un santo e i peccatori anche i più nascosti sono un accidente che non cambia questa sostanza ecco penso io il vero punto di vista quando mi reco al bar a leggere giornali ignobili o stupidi e guardo gli altri clienti e vedo la loro gioia sciocca e odo le loro insulence e le loro bestemmie dico a me stesso che quelle sono anime immortali create per l'adorazione della Santissima Trinità tanto preziose quanto gli spiriti angelici e mi viene da piangere non per compassione ma per amore è bello o no questo questo Leon Blois che era un personaggio particolare uno scrittore sposato vado al bar e mi metto a piangere fate anche voi quando sentite questi uomini bellissimo tutti siamo potenzialmente dei santi ma che differenza c'è allora tra me e un santo che il santo ama Gesù in modo straordinario il santo è un peccatore come vi ho detto che ama Gesù in modo straordinario avranno avuto anche delle nevrosi ma scrive Jacques Gautier i santi sconosciuti o conosciuti hanno avuto anche delle nevrosi delle ferite interiori dei dubbi delle rimozioni delle ossessioni degli scrupoli e dei difetti ma ciò non li ha impediti di voler far piacere di voler piacere a Dio nelle piccole cose del quotidiano perché avevano fiducia in Lui vedete anche San Paolo di sé dice io sono il più grande peccatore elenca i suoi peccati anche Charles de Foucault dal punto di vista umano fu un fallimento perché voleva farsi trappista e non rimase nella trappa andò a Nazareth voleva fare il guardiano delle suore l'ortolano delle suore ma non gli piacque andò nel deserto del Sahara ma anche lì cambiò diversi posti un fallimento poi scrisse la regola sapete che scrisse una regola piccoli fratelli eccetera come il padre no? scrisse lo statuto sapete quanti discepoli aveva quanti confratelli aveva? zero non aveva nessuno scrisse la regola prima che venisse qualcuno dice ma caso mai venisse qualcuno ho già la regola pronta e morì e non c'era ancora nessuno per cui poveretto poi dopo vennero dopo trent'anni della sua morte uno lesse la regola e si fece piccolo fratello ma lui era già in paradiso quindi poteva anche non scriverla ma la scritta dopo per quelli che sarebbero venuti quindi quando è morto possiamo dire un fallimento ma avessi io lo spirito di Charles de Foucault cioè in sostanza quello che questi uomini non erano Barsotti Charles de Foucault questa gente Leon Blois non erano dei tiepidi non erano tiepidi erano anche peccatori anche Charles de Foucault ma non erano dei tiepidi i tiepidi sono quelli dell'Apocalisse sapete cosa fanno i tiepidi nell'Apocalisse vengono rigettati da Dio come dicevo Sant'Agostino aveva un'anima passionale a tanti santi allora quello che dobbiamo fare è dirigere queste passioni verso Dio da tiepidi diventare caldo ed è quello che fece è un divo Barsotti nei diari giovanili leggete i diari giovanili alcuni sono inediti quindi spero che presto verranno pubblicati è un cavallo scalpitante distruggimi spezzami ammazzami ma io voglio essere tutto tuo voglio essere l'ombra della tua croce a un certo punto scrive a vent'anni voglio essere l'ombra della tua croce non oso dire voglio essere crocefisso con te ma l'ombra sta sempre lì che ti guarda quindi il peccatore diventa santo nonostante tutte le cadute Julian Green uno scrittore americano un grande cattolico dice la lettura del Vangelo tutti i giorni è morto a cent'anni lettura del Vangelo due punti ad ogni pagina giudicato condannato assolto bellissimo è così anche per voi aprite il Vangelo ad ogni pagina giudicato condannato assolto bellissimo cioè non c'è pagina del Vangelo che non mi giudichi non c'è pagina del Vangelo che non mi condanni ma non c'è pagina del Vangelo che non mi assolva allora se siamo tormentati dalle cadute guardiamo Gesù che assolve sono venuto per i peccatori il nome di Gesù significa Dio salva Dio salva Dio salva Dio non mi ama perché mi trova amabile ma mi ama perché mi ama qui c'è una bella citazione di un certo Blanchard non ce l'ho più ho perso ve la dico comunque la dico a memoria la differenza tra l'eroe e il santo l'eroe ha l'idea di se stesso eroe il santo ha l'idea di Dio l'eroe cerca la propria gloria il santo cerca la gloria di Dio il soggetto è Dio io non vado a lui perché sono amabile dicevo ma l'eroismo l'eccessivo senso di sé dell'essere buono dell'essere grande non dà gloria a Dio anzi questo è il principio dell'ideale massonico massoneria tu devi essere grande famoso mi dire per dare gloria a te per dare gloria a te stesso il santo autentico invece riconosce la propria miseria la prospettiva è totalmente capovolta scrive Santa Teresa di Gesù Bambino andiamo verso la conclusione di questa prima meditazione essere piccoli vuol dire non attribuire affatto a noi stessi le virtù che pratichiamo centrale questo fatto io pratico molte virtù le faccio ho paceggia vivo la castità vivo obbedienza adesso dovreste chiederlo a padre Agostino se la vivo ma insomma però insomma è vivo queste cose la mitezza ma dice Teresa non attribuire affatto a se stessi le virtù che pratichiamo non crederci capaci di nulla ma riconoscere che Dio pone il tesoro delle virtù nelle tue mani le sue virtù nelle tue mani che sono mani di bambino perché tu te ne serva quando ne hai bisogno ma il tesoro è sempre di Dio bellissimo sto fatto guardate potremmo finire gli esercizi così il tesoro è sempre di Dio ce lo metti nelle mani lo usi quando vuoi ma non viene da te d'accordo? non viene da te infine essere piccoli significa non perdersi d'animo per le proprie mancanze perché i bambini cadono spesso ma sono troppo piccoli per farsi un male grosso il bambino è alto 40 cm quando cade oddio si cade per terra diciamo normale è un esempio si fa poco male perché cade non è capace di farsi un male grosso non perdersi d'animo per le proprie mancanze e scrive ancora novissima verba provo una gioia vivissima non soltanto quando gli altri mi trovano imperfetta attenzione gioia vivissima non mugugno e sopporto gioia vivissima va bene allora voi dovete dirmi adesso come sei imperfetto ma no poi l'imperfetto mi dice poco come sei poi mi dite un difetto e quando me la dite anziché dire ma come osi dirmi una cosa simile guarda te stesso eccetera provare una gioia vivissima comunque il pensiero è questo provo una gioia vivissima non soltanto quando gli altri mi trovano imperfetta ma soprattutto quando mi sento tale io stessa io mi sento imperfetta punto per questo motivo provo una gioia vivissima bene ultimo punto ma breve siccome non ci riusciamo a far questo Dio ci aiuta ed ecco la famosa spina nella carne 2 corinzi 12 non sto a rileggere perché non montassi in superbia Dio mi ha dato una spina nella carne per tre volte ho chiesto di togliere ma lui mi ha detto no caro Paolo te la tieni la spina nella carne perché questo ti fa sentire la tua che cosa miseria ontologica la tua debolezza dice il testo ma lo traduciamo adesso la spina nella carne mi fa sentire la mia miseria ontologica coppa vuota e allora quando sei debole sei forte perché da lì chiami e speri va bene interessante notare che la parola spina non è proprio spina scolops greco io non ho studiato il greco sono andato a vedere nel dizionario la parola spina significa palo cioè una spina grossa come un palo nel fianco se San Paolo non aveva mica una spinuccia di rosa nel fianco un palo si vede che San Paolo se avessi tolto questo palo nel fianco sarebbe montato in superbia perché era molto valoroso era un uomo che aveva un sacco di doti e le elenca ben bello perché dice ah si sono degli apostoli io lo so un più di loro Fariseo figlio di Fariseo laureato con 110 lode col bacio economico in fronte ho sopportato centomila prove destra sinistra sopra e sotto e questi vogliono fare le scarpe a me così dice detto al racconto leggero dice però appunto ho ricevuto tutto da Dio io sono il più grande peccatore lo dice bellissimo sto fatto cioè è sincero io valgo dieci volte voi quindi state zitti ma tutto quello che ho ricevuto è tutta grazia di Dio e quindi va a finire una lode enorme la grazia di Dio bellissimo ecco perché Paolo è diventato santo allora questa spina noi ce l'abbiamo ci fa sentire costantemente deboli ma noi possiamo anche nasconderla agli occhi degli uomini ma questa spina diventa la nostra forza perché San Paolo dice quando sono debole è allora che sono forte questa spina nella carne ci insegna l'umiltà ci insegna ad accrescere la fiducia e alla fine è la condizione migliore l'ultima citazione sono già le 10 è del padre Nandivo Barsotti penultima citazione il quale dice dopo avere peccato il padre è paradossale dopo avere peccato tu sei nella condizione migliore per ricevere Dio è proprio per questo che Dio tante volte per iniziare alla vita religiosa un'anima che egli ama fa sì che quest'anima conosca l'umiliazione della caduta Dio permette anche il peccato perché finalmente nel pentimento l'anima lo cerchi con umiltà e lo possa trovare poi dice certamente sarebbe meglio che l'anima conservasse il sentimento della propria miseria senza cadere ma tale è il nostro orgoglio che se non abbiamo un'esperienza dolorosa della nostra miseria è facile che acquistiamo il sentimento di essere delle persone per bene e allora ci estraniamo da Dio che roba ragazzi ci estraniamo da Dio scrive una che aveva delle visioni del Signore Yvonne e me di Gesù una suora francese ma che non è beatificata Gesù le parlava e Gesù le dice mi piacciono anzi amo le anime ricomincianti sono anime che ricominciano e alla Giusefa Menendez Gesù diceva è colui che mi ama di più che mi è più caro cioè è l'amore che chiede la comunione la consonanza ma l'amore nasce dalla fiducia la fiducia nasce da questo senso della nostra miseria ontologica grazie grazie grazie